L'educazione è innanzitutto un'esperienza emotiva. Certamente impariamo delle cose, quindi ci occupiamo della cognizione, dei concetti, della ragione, ma ci sono porte del cuore che la ragione non apre. E noi maestri di strada ci occupiamo soprattutto di queste. Detto più prosaicamente, ci occupiamo delle condizioni che rendono possibile l'apprendimento. Mi dispiace di dire questa cosa, però nessuna didattica può aprire le porte del cuore. Le didattiche vengono dopo. Noi ci occupiamo del primo, ce ne occupiamo da 20 anni e riusciamo anche ad aprire cuori che sono chiusi e occupati da altre parti, come per esempio il cuore di Amleto, che è la metafora che noi usiamo per dire che ciò che noi facciamo con gli ultimi vale anche per i primi. Il principe di Danimarca a 17 anni era impegnato in problemi psichici enormi, tanto che gli facevano dire che il tempo è uscito fuori dai cardini, che fatica rimetterlo a posto. Bene, i nostri adolescenti soffrono per le stesse cose e se non ci occupiamo prima di raccontargli il mondo come un mondo buono per loro, è difficile che si impegneranno nell'apprendimento. Questa è l'unica cosa vera che possiamo dire a tutto il resto della scuola in Italia e anche nel mondo, tant'è che abbiamo organizzato un congresso mondiale della trasformazione educativa per dire questa semplice cosa.